Solo abbracciando con lo sguardo lo splendido salone dell'albero genealogico ci si inebria delle magnificenze del Cataio, il maniero cinquecentesco fatto erigere dalla famiglia Obizi poco fuori Padova, da cui nelle più splendenti giornate di sole si arrivano a scorgere i limiti della grande pianura tra il territorio Uganeo e il Polesine fin quasi al mare Adriatico. Nel paesaggio in questione però stona un elemento ancora non visibile nella sua compiutezza, ma il cui percorso per la realizzazione riporta addirittura indietro nel tempo al 1993 con la consultazione popolare che allora ottenne un riscontro favorevole verso il riconoscimento di area per centro commerciale integrato, confermato da due sentenze del Consiglio di Stato nel 2002 e 2008. 64.000 m2 di struttura a due passi dall'autostrada A13 Padova-Bologna con la questione terza corsia ancora dolorosamente aperta di proprietà di un fondo pensionistico spagnolo che secondo associazioni di categoria e comuni del territorio, compreso quello direttamente interessato Due Carrare, riuniti in un incontro a cui hanno partecipato anche personalità politiche al Castello del Cataio, costituiscono un'autentica violenza dal punto di vista paesaggistico e commerciale, ennesimo ipermercato in Veneto. Ad essere chiamati in causa la regione dalla quale si attende una legge sul consumo del suolo perché, come ha sottolineato l'attuale proprietario del Cataio, Sergio Cervellin, dovrebbero esistere aree appositamente preposte alla dislocazione di simili strutture. Abbiamo già avuto modo di parlare con provincia, regione e anche con qualche governatore fuori dalle nostre portate e tutti si sono impegnati nel dire no, guardiamo bene cosa sta succedendo. Quello che magari sono stati, dico io, Magnani nel 94, oggi lo guardano con molta diffidenza e molto più attentamente. Teniamo conto che per ogni assunto nella grande distribuzione perdiamo sei della distribuzione di vicinato, cioè questi sono numeri reali. Il problema è anche in rapporto alla qualità della vita che noi oggi conosciamo. L'antidoto al pericolo di desertificazione è suggerito dalle parole del presidente padovano dell'ASCOM, innovare in una rete capillare di negozi nel territorio. È qualcosa che noi combattiamo da anni, il basta centri commerciali. Questo poi ha superato tutti i limiti perché è il più grande insediamento che viene fatto. Quindi con un consumo del suolo importante non si parla più di riqualificazione, qui si parla appunto di consumo del suolo tenendo conto anche dei danni geologici che questo procurerebbe. Ma al di là di questo è quello che è il economico perché questo abbraccia tutta la nostra provincia e non solo. E quindi vuol dire perdere le nostre tradizioni, perdere i negozi di vicinato, perdere socialità e questo non ce lo possiamo più permettere.